Oh oh oh, ma cosa mi dici? Ciao a tutti amici, sono io, Topo Gizio. La mia mamma mi ha insegnato una cosina molto importante, e cioè, quando si può nella vita bisogna essere generosi e si deve aiutare gli altri. Ed è per questo motivo che oggi sono venuto al centro Maria Letizia Verga, che si trova presso l'ospedale San Gerardo di Monza, reparto di oncologia pediatrica. E grazie agli amici di Giochi Preziosi, agli amici dei Pesi Massimi, tifosi del Como, e naturalmente alla grande famiglia di Topo Gizio, eccoci qua, siamo venuti a consegnare tanti giochi a questi bimbi coraggiosi per passare un Natale, un Natale migliore. Un abbraccio a tutti e Buon Natale da Topo Gizio e da tutti i suoi amici.